comando stelare via pianeta sconosciuto pianeta sconosciuto è il pollo non si finisce di mangiare l'idea è la riscossa si dice riscossa non è viscosa no, riscorsa grazie che mi incorrezi pianeta sconosciuto ispezione di tutto un pianeta intero chissà come lo farà quanti chilometri quadrati quant'è la superficie di questo pianeta 4 milioni di chilometri qua 4 milioni di chilometri qua 5 milioni di chilometri Grazie.